... Parte oggi in Via Garibaldi il concorso delle vetrine con l'amministrazione comunale e Unione Commercianti. In realtà è una cosa molto semplice, studiata di notte mentre non lavoriamo, vuole dare l'idea più del mercato, quindi proprio del banco della frutta e naturalmente abbiamo utilizzato i colori italiani, quindi ortaggi, frutta e verdura bianco, rosse e verde uniti all'abbigliamento che vendiamo. Vuole essere una cosa un po' più popolare dal paese. Grazie mille. Per questo quest'anno è stato strutturato con una giuria tecnica che è composta da due componenti dei confcommerci e due componenti indicati dall'amministrazione comunale. Siccome abbiamo avuto un ottimo riscontro in termini numerici, sicuramente l'anno prossimo vogliamo riproporlo affinando magari una giuria popolare, studiando poi come sarà il metodo di valutazione. Oh grazie, l'applicazione sarà quindi sempre il sabato 6 giugno e aspettiamo l'ultimo anno in terza liberazione alle 22.30.